Musica Amici di Bracemi Ancora Oggi il nostro video ha due protagonisti Gli hamburger e la maremma Terra magica, terra strepitosa, terra saporitissima Io mi trovo in località Monte Cucco Nella maremma più selvaggia E qui abbiamo deciso di organizzare il nostro ranch Il ranch di Bracemi Ancora Che è anche un po' il vostro ranch Dove pascolerà il nostro bestiame E dalla quale arriverà Della carne sicuramente buonissima La cosa che voglio fare però è fargli vedere Il ranch, ma mi farò accompagnare Da delle figure mitologiche Da coloro che detengono I sapori e il gusto della tradizione Toscana, i butteri Alessandro, ben trovato Come va? Grazie, un saluto a Luigi e Fabio Che sono i tuoi colleghi butteri Tu sei un buttero da quanti anni? 40 anni Perfetto, sei il miglior custode che potevo avere Ci accompagni a vedere questo territorio Questo posto pazzesco Andiamo Loro ci anticipano a cavallo Noi seguiamo col pick up? Vai Guido io, se no Vai vai Questa è una delle parti più incontaminate della Maremba Siamo nella zona del Monte Cucco A metà strada tra il mare e il Monte Amiata Dove scorre il fiume Ombrone E questo è il nostro ranch Ma sicuramente la bellezza di questa terra La cogliete di più Se facciamo alzare un drone Senti Alessandro, ce l'hai cinque minuti? Manca dieci Ci lo beviamo un guocciotto di vino all'ombra della quercia? Basta che sia un buon vino toscano Sì, sì, perché ci avrei voglia di chiederti un paio di cose Sì, va bene, va bene Ma io pensavo che sotto a qua la quercia Stiamo anche bene, vero? Come fa un brindisi Questo è per te Grazie Questo è per me Alla salute Alla nostra Alla Maremma Senti Ti viene in mente qualcosa di più bello? Ma io penso proprio di no L'ho raggiunto in questa terra Che ti vivi in un ambiente Che fino a un secolo fa Si poteva definire un ospitale Fino a un secolo fa I turisti non c'erano? No No Pochi lo conoscevano Pochi conoscevano questo lembo di terra Questa è la Maremma È aspra È selvatica È selvaggia Ti vedi queste estensioni di boschi Di macchia mediterranea Questi animali Questi sono animali Che hanno praticamente origini ancestrali Per capire cos'è la Maremma La vedi anche solamente dagli animali che la abitano Tu sei custode della Maremma E quindi sei pure custode dei sapori della Maremma Perché questo formaggio Questo vino La nostra carne I nostri hamburger Sono prodotti che nascono qui Ma solamente cosa respirano questi animali Pensa solamente a cosa respirano Pensa a come vivono Che quando ti abitui a questi sapori Negli altri Dico sempre O non senti il sapore O senti dei sapori strani Perché qui senti veramente il sapore Vero Della carne Cioè la buona carne Il buon formaggio Ma forse lo puoi trovare Anche in altre parti d'Italia Non è mica solamente Questo enclave qui Che può avere queste magie Però questi paesaggi Questi profumi Questi animali Dai solo Dunque il valore aggiunto di questa carne È perché questa carne vive Come probabilmente viveva un secolo fa Due secoli fa Tre secoli fa C'ha il sapore della Maremma Eh sì C'ha il sapore della Maremma Lo assorbe proprio Terra vera Sapori veri E storia vera Tutto vero Tutto vero Non c'è niente da te fare Allora Il sole fra un po' tramonterà Io la sede l'ho soddisfatta Perché mi sono bevuto Mezzo litro di Montecucco Però comincia che c'è fame Io direi che torniamo Ma la carne Ci mettiamo di fronte a una carne Sa che i vostri amici ci hanno anticipato E già si sono messi Quindi io farei così Voi governate i cavalli Sì Io si regano Alessandro E io vi preparo la macchina Va bene? Certo Dieci minuti e arriviamo Vabbè Dai Io sti sono lì Mazza quanti so E questi sono I nostri hamburger Gli hamburger Bracciami ancora Così li vedete in cottura Che è il momento migliore Ma se li volete anche voi Cercate Questa confezione qua Allora guardatela bene Nel commento di questo video Metteremo un link Cliccando Avrete la possibilità Davvero di scoprire Dove vicino a casa vostra È possibile Acquistare questi hamburger Gli hamburger Di bracciami ancora Che hanno il sapore Della Maremma Io però non mi devo distrarre Perché altrimenti Qui qualcuno Ne brucio E soprattutto Sono curioso Di vedere se I nostri amici butteri Approvano Questo nostro prodotto Che proviene Dal bestiame Che avete visto Che nasce E viene allevato Qui Nella terra di Maremma E quindi ha un sapore Genuino Ha un sapone italiano Ha un sapore A mio avviso Stripitoso Io che già l'ho assaggiato Ma sono molto curioso Di sapere I nostri amici butteri Se sentono La loro terra In questo hamburger È un sapore allora signori questi sono gli hamburger della vostra terra io voglio sapere solo una cosa se ci sentite la maremma dentro ok buon appetito ce la senti la maremma ce la senti sicuro ok te ce la senti la maremma tutta guarda si vede per la carne guarda estezionale lei ce la sente la maremma ora te l'assaggio ce la senti la maremma là dentro la sento alla grande perfetto te ce la sento ce la sento bene 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 ragazzi buon appetito dopo tanta fatica amici di braccia mi ancora questo me lo mangio pure io portacci quanto è buono sono buono ragazzi noi quello che dovevamo dirvi ve l'abbiamo detto quello che dovevamo far vedere ve l'abbiamo fatto vedere non ho null'altro a dirti se non salutarvi e dirvi come al solito un abbraccio e che l'abbraccio si con voi ciao 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 ciao